Cosa significa per un obeso salire su un autobus affollato, prendere posto in aereo al cinema o entrare in un negozio di abbigliamento? Lo racconta con leggerezza e ironia Fabio Denunzio, ex inviato di Striscia la Notizia, che a Termoli ha presentato il suo libro sotto il segno della bilancia 3, arrivato alla sua terza edizione scritto insieme a Vittorio Graziosi. Un excursus sulla sua vita, dall'infanzia resa difficile dall'asma bronchiale all'adolescenza, dal primo amore fino al successo nel mondo dello spettacolo. Con scherzi, aneddoti, racconti personali, l'autore spiega i piccoli accorgimenti quotidiani che deve adottare un oversize in un mondo disegnato invece a misura di magro, un libro che ha lo scopo di sensibilizzare la società. L'unico libro in Italia che è a difesa delle persone obese, è l'unico libro che denuncia le discriminazioni, le barriere architettoniche e le forme di bullismo che le persone obese sono costrette a subire quotidianamente. Sta avendo grande successo, siamo arrivati per fortuna alla terza edizione insieme a Vittorio Graziosi e lo scrittore che mi ha dato anche lui una mano nel scrivere questo libro e abbiamo vinto anche tanti riconoscimenti, uno metto uno al primo posto, tutti gli altri al secondo, è quello di Assisi dove mi hanno nominato Cavaliere della Pace. Fabio Denunzio è riuscito a dar voce alle tante persone che affrontano un problema più grande di loro, l'obesità, che rappresenta non solo un problema di salute ma anche uno stato di discriminazione in una società dove se non entri in una taglia S sei escluso e bullizzato. Da qui il messaggio soprattutto per i più giovani e il motivo per cui il libro viene presentato soprattutto nelle scuole. L'incontro è stato organizzato dall'associazione Curvy Pride che a termine ha proposto già diverse iniziative. È un'associazione sociale che si occupa di lanciare un messaggio e praticamente si occupa anche della pluralità delle bellezze cioè che ognuna è bella così com'è a prescindere dalla propria taglia e quindi si occupa di lanciare questo messaggio e quindi aiutare le persone a prendere coscienza di riapproparsi della propria vita e di essere felici.